E' terminato il primo tempo, risultato parziale due a due pareggio, ecco fanno loro, rientrano in campo negli spogliatoi, rientrano. La squadra del Miglianico non rientra nei spogliatoi ma rimangono in panchina per la pausa tra il primo e il secondo tempo, l'allenatore sicuramente lo tiene a rapporto. Qua abbiamo il nostro Gabriele, eccomo ti do quello che ti serve.